Ciao ragazzi bentornati, guardate un po' dove siamo A mare, che stiamo facendo a mare Che stiamo facendo a mare, allora siccome siamo venuti per registrare un video sul suo canale Ho detto già che ci siamo, registriamo pure un video qui per il mio canale Cosa faremo oggi Elisa? Allora, ogni partita passata, però vinta, io gli darò un bacino Mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina Passate nel primo link in descrizione, nel primo link nel mio commento Perché è uscito anche un video sul suo canale, andatelo a vedere, dove ci buttiamo a mare Ve ho detto tutto, ci siamo, primo livello Dai, questo livello è facile, quindi dovresti passare Aspetta però, sembra facile ragazzi, perché come benissimo sapete, giocare da telefono non è per niente facile Perché sono abituato a giocare da pc, però devo passare perché mi deve dare il bacetto E un po' si gode, e mi sa che forse ti sei qualificato Mi sono qualificato, credo, eh, credo proprio di sì Sì, ma penso di sì, guarda, non c'è nessuno Minchia sono un cacchio di pro player pure qua da telefono E let's go, primo livello e quindi Primo bacino Primo bacino Dai Oh Ah, tra l'altro se faccio vittoria reale, lo dà da un'altra parte Secondo livello, let's go Questo per te dovrebbe essere facile, dovrebbe Sì Calma, 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 calma Let's go Dai, su, mi sa, pure qui è qualificato, eh E mi so qualificato Vamos, e quindi Secondo bacino Another Ah, 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 ah Eh, maschietti, state per calmi, voi già, tutti che vecchi Ok, siamo al gioco finale, ci siamo Visto che siamo al gioco finale, puntiamo a portarcela a casa Tu pensa se vinco Ma sei bravo pure qua, eh Attenzione, calma Telefono Calma Mamma mia, mamma mia C'è il pandino che ti sta puntando malissimo Ah Vabbè, 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 niente bacino Non l'avevo visto, ti voleva il bacino Eh, questa partita niente bacino Eh, vabbè, dai, però almeno due l'ho preso, oh Dai, seconda partita Aia, che botta Eh, sì, ciao E mi sa che, eh, mi sa che qua vado a farmi friggere, eh Sì, vabbè, dai Ma che cacchio Eh, vabbè, volevo fare, volevo fare il mega salto della vita Dai, che ti sei qualificato Calma, calma, no, non mi... Che palle, oh, niente, lo voglio sto cazzo di bacetto, non mi interessa Addirittura Sì Dersa partita Dai, dai, almeno, almeno passare i primi due livelli Bravo Aspetta Ma te vuoi fare da coach a me? Sì Ah, dove cacchio c'è un minchione Ma se no, ma non vedo niente Non è vero Eh, non è vero, c'è il sole davanti Ragazzi, vi posso garantire che non si vede una ceppa di mica Sì, perché abbiamo il sole puntato in faccia Oh E mi sa che Qualificato Mi sono qualificato Beh, 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 beh Dai, dammi sto bacetto, un po' si gode, però Un po' si gode, attenzione Oh, questo livello quanto l'odio Allora, se non mi prende nessuna palla Dovrei qualificarmi, teoricamente Ma sì, ti sei già qualificato Zitta, zitta Ok, easy Quindi il gioco finale Dai, voglio vincere così il bacetto Così il bacetto me lo dà nella ho Come si dice bocca in spagnolo? Cazzo lo so Boca Boca, sì, bocca junior Allora, il gioco finale lo scivolo Si può fare, non è impossibile Secondo me no Non è impossibile, fidati Devo solamente riuscire a fare i trick È un po' complicato, però Quello è il difficile di questo gioco Lo so Proviamoci ragazzi, dai Dai che ce la facciamo No, vedi, c'è questo molto più forte di te Guardalo, guardalo Ma che cacchio dici? Un attimo, con calma No Calma ragazzi, calma Passiamo di qua Passiamo di qua Ok Passiamo di qua No, no, no Ti prego, ti prego, ti prego Ti prego Con calma, con calma Ciao Con calma No, sono cascato Non ci credo Ma no Ma si sapeva Ma potevi darmi il bacetto in bo Niente bacetto Io ci sto provando a farvi vedere il mio bacetto Ma non è mica colpa mia, cazzo Sono cascato all'ultimo Anzi Già che ho fatto quel primo trick Già è tanto Ultima partita Dai Ultima? Sì Va bene Che giociamo di buona Ci facciamo le dita Sì, dove cazzo sto andando Dov'è che vado? Ma dov'è che vado? Sì, guarda Poi non è che si alza sto mino Se non cado qui Mi posso qualificare Se non cado Ok Ti prego, ti prego Fammi qualificare Ti prego, ti prego Ti prego Ti prego, ti prego Let's go Let's go Bacetto Se ci avete tipo una ragazza che vi piace Roba del genere Vi do un consiglio Fate tipo questa cosa qua Ogni livello un bacetto Però quando lei sta per darvi Quando lei sta per darvi il bacetto Ti giri e ve lo date in bocca Vi do un consiglio Guardi come mi ha conquistata Ho conquistata così Ecco là, ecco là È normale È normale Non dovevo nemmeno parlare Sono un minchione Sì, vabbè ragazzi Non impennate le cose Ragazzi dovete stare da sta parte però Dai cacchio Ma nessuno di noi si qualifica Oh, era ora Non so se facciamo il tempo a qualificarci eh Non mi sono qualificato ragazzi Se non è per i player è per il tempo E mi sai che è per i player eh Aspetta, aspetta Bello Ok, ce la facciamo Easy l'ultimo Let's go Gioco finale Baccettino Speriamo questa volta Di vincere Elisa è il gioco finale che mi piace Solamente che non ho il pugno Ah Eh, e ora E ora? E ora? Oddio Oddio Dai Salta Un attimo Oddio come mi sono salvato Non sto vedendo niente Passiamo da quella parte Se avessi avuto il pugno Avrei già vinto Bello così Bello così Che salto ho fatto Ok Ok Momento No Ma sei stupido Ma che fai? Vado a buttare a mare Basta No No bugia Se volete vedermi buttare a mare Andate sul canale di Elisa Eh infatti Dai va bene così dai Poteva andare meglio L'ultimo bacetto finale su Dai me lo merito ragazzi Me lo merito Che dire Io e Elisa vi ringraziamo Per aver visto questo video Ci vediamo sul suo canale Che è uscito un video Sempre qui a mare Quasi uguale Quasi uguale Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao